Benvenuti nel mondo degli orologi VIXA. VIXA è un marchio di orologi tedesco fondato nel 1935 a Fozheim, in Germania. Gli orologi VIXA furono progettati e prodotti per l'Air Force, alla quale vennero forniti circa 6.000 orologi Type 20. Le prime collezioni militari VIXA erano dotate di numerose caratteristiche, tra cui la resistenza all'acqua, la resistenza ai graffi, gli indici ben visibili e la precisione dei movimenti tedeschi. Grazie a queste peculiarità, gli orologi VIXA furono un punto di riferimento per la subacquea e l'aviazione. Col passare degli anni il marchio si è reso indipendente, cercando di entrare nell'orologeria di lusso con orologi dal design innovativo e dalla qualità superiore. Infatti nel 2003 l'azienda realizzò il modello Da Vinci III. Un orologio dal design artistico ispirato al Cryptex di Leonardo Da Vinci. Questo orologio presenta sul quadrante una serie di forme geometriche composte da tre dischi che permettono la visualizzazione dell'ora in modo molto particolare. In conclusione, VIXA è un marchio legato alla produzione di orologi per l'Air Force, ma che con gli anni è riuscito ad emergere come azienda indipendente, creandosi una storia di lusso e innovazione. Una Maison ancora in crescita sulla quale molti collezionisti e appassionati puntano.